Grazie al Presidente per aver fatto riecheggiare in questa sala le note del nostro inno, che purtroppo non ascoltiamo quasi più. L'invito fatto da quello che sarà da oggi il nostro Segretario nazionale deve essere per tutti noi militanti validi in ogni festa, in ogni adunanza, suoniamo il Vapensiero. L'appello di Brescia, orgogliosa di ospitare questo congresso, è un grazie grande a tutti i militanti bresciani che tanto hanno lavorato per renderlo possibile, che sono agli accrediti questori in segreteria, nella sicurezza, è enorme. Ma è un orgoglio triste, perché Brescia è una provincia purtroppo tormentata, tormentata da quell'islamismo che qui è fortissimo. Dieci sono stati gli arresti negli ultimi due anni di terroristi islamici, terroristi che sono andati a combattere in Siria e che possono sempre tornare tra noi. L'appello a questo palco è l'unità di Brescia, l'unità della Lombardia, una Lombardia che con Grimoldi ha ritrovato quella guida che forse da tempo non aveva, una guida che ha fatto ripartire la macchina organizzativa e che farà tornare grande la Lega Lombarda. Dicevo, il nemico è fuori, è un nemico enorme, grande, l'islam. Quell'islam che dopo attiene il 732, passando per Kosovo Poglie, Lepanto e gli assedi di Vienna, fino all'11 settembre alle strage odierne, non smette di attaccare la nostra civiltà. Dobbiamo ergersi a difensori di quella, e lo diceva Gilberto, che è la comunità più vituperata e misconosciuta della storia. Non molleremo mai davvero fino all'indipendenza con Paolo, con Matteo, ci siamo sempre stati, siamo cresciuti assieme. È una comunità di militanti che non ha uguali nella storia di questo Paese. Grazie a Umberto Bossi, a Gianfranco Miglio e, lo dicevo poc'anzi, a Gilberto Netto, abbiamo riscoperto l'orgoglio dell'appartenenza comunitaria, l'orgoglio di essere un popolo. Non molliamo mai. Grazie a tutti. Grazie.